eccoci qui tornati benvenuti in questo nuovo video oggi non si parlerà di serial killer né di misteri per la prima volta vi introduco qualcosa che potrebbe diventare un nuovo format ovvero luoghi misteriosi e inquietanti anche oggi sono in collaborazione con il canale murder crime italia lascerò il link in descrizione al suo canale e poi voglio ringraziare il mio collega di lavoro franco per avermi segnalato questo caso se volete supportarmi ricordatevi di lasciare un bel like un commento e se non siete iscritti al canale iscrivetevi e adesso buona visione il luogo misterioso di cui vi sto parlando è un ex orfanotrofio femminile costruito nel 1933 divenuto in futuro un manicomio attualmente abbandonato si sa poco a livello storico per quanto riguarda l'orfanotrofio ma in veste di manicomio come potete immaginare era abitato da gente non proprio sana di mente non si sa molto riguardo la sua storia un tempo se non erro non tutti gli internati erano matti questo perché non si conoscevano bene le malattie controllabili e quindi si faceva presto a sradicare il problema tra virgolette questo manicomio è famoso per l'aspetto sinistra inquietante soprattutto all'interno della cappella dove sono state trovate candele e croci tutto ciò ha fatto pensare che un tempo si facevano dei riti testimonianze non ufficiali riporterebbero malessere tra i pazienti scritte sui muri come mamma dove sei perché non mi fanno uscire perché mi hanno punito sarebbero state messe lì di proposito per spaventare ancora di più il turista nella sua esplorazione attualmente come dicevo poc'anzi è un luogo abbandonato ed oggi è meta di ghost hunters in italiano cacciatori di fantasmi e di persone interessate a comunicare con gli spiriti detto questo ora vi lascerò una serie di foto così anche voi potete constatare quello che sto dicendo prima di lasciare la parola murder crime italia voglio aggiungere che questo manicomio è stato anche luogo di cinema sono stati girati alcuni film horror e polizieschi da citare il grandissimo umberto lenzi che girò alcune scene del film la banda del goppo con protagonista l'eterno thomas miglia uno dei borghi medievali più conosciuti del lazio è sicuramente sermoneta non molti sanno che nel paese è presente uno dei castelli medievali meglio conservati di europa stiamo parlando del castello caetani il palazzo era di proprietà vaticana e in seguito i proprietari divennero gli annibali fino a che la proprietà passò ai caetani nel 1297 fino ai giorni nostri quello che ancora meno persone sanno è che il castello è infestato da un fantasma che si aggirebbe tra le mura antiche del castello è il fantasma di un bambino si dice che il fantasma del piccolo sia morto di morte violenta e che si aggiri all'interno dei sotterranei parlando con gli abitanti di sermoneta sembra che il fantasma sia proprio quello del principino la cui identità risulta sconosciuta ritratto in un quadro appeso in una delle numerose stanze del castello la sala del cardinale sembra quindi che la fortezza sia stata negli anni e continua ad esserlo tutt'oggi la casa di questo bambino fantasma e pare che se si presta particolare attenzione sia possibile anche ascoltarne i lamenti e gli strazi i custodi del castello una coppia di sessantelli raccontano ai turisti che visitano le mura che il piccolo ama fare scherzi si divertirebbe ad aprire porte e finestre e a farle sbattere la coppia abituata alle marachelle lo sgrida scherzosamente e solo allora il giovane ragazzo smette di far sbattere gli infissi la notte inoltre si possono dire i lamenti del suo pianto perché spaventato dal buio chiama sua madre che però non risponde mai verità o solo folclore locale can you see me hello can you find me can you find me i'm here behind you look behind you thank you i'm behind you